Sì, tornerò in palestra Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Nel video di oggi vi voglio portare nella mia giornata e farvi vedere che cosa farò e che cosa mangerò Allora diciamo che il video non inizia proprio al massimo perché non so se potete vedere dalla finestra Ma il tempo è orribile, sta piovendo, più tardi verso le nove e mezza dovrei andare a piedi in palestra Sì, è vero Non sono tornata in palestra però può darsi che sia una cosa, ecco Può darsi che questa cosa succeda ma ve ne parlerò più tardi Ora sono le otto, ho fame, vado a fare colazione Vi faccio vedere che cosa mangio, mi sono preparata il tiramisù ieri sera e quindi mangerò quello Non so se questa è la prima volta che faccio un vlog Può darsi, vi faccio vedere cosa mangio per colazione Buongiorno topolo Eccola qua la colazione pan bauletto proteico, yogurt greco, stevia, cacao e la noce Che ci sta benissimo con il caffè perché vabbè ovviamente ho unzuppato il pan bauletto nel caffè Lì abbiamo un video di Guglielmo e niente adesso mi metto a fare colazione e noi ci vediamo più tardi quando mi dovrò preparare per andare via Sono appena tornata da una camminata di mezz'ora 40 minuti E sono stacca Io vi volevo, prima di partire ovviamente Vi volevo aggiornare su appunto dove andavo, che cosa avrei fatto Ma non ho potuto, sono andata via di fretta perché siccome il tempo fa schifo Ho approfittato per farmi dare un passaggio dal mio padre che doveva entrare subito al lavoro Quindi avevo letteralmente 10 minuti per prepararmi E quindi non vi ho detto che cosa andavo a fare Ma ora che sono tornata vi parlerò appunto di dove sono andata Ok, vi aggiornerò, vi farò Volevo fare un video a parte, tipo life update Non lo farò, vi aggiorno qua direttamente Come vi ho detto prima, sono andata in palestra Avevo un appuntamento in palestra Per sentire un attimino quali erano i prezzi, le tariffe e tutte queste cose qua Ormai penso che avete capito il perché Tornerò in palestra Io già se penso a me che farò la latte machine Mi viene da piangere, letteralmente mi commuovo Non avete idea di quanto mi era mancata Però vi devo delle spiegazioni perché vi avevo detto che non sarei più andata in palestra Per motivi economici e effettivamente avevo smesso di andarci Per questo motivo, perché l'abbonamento annuale mi era scaduto E non ero in grado di ripagarlo io E non volevo chiedere soldi ai miei genitori Una cosa tira l'altra, per determinate cose che sono successe E che vi dirò quando saranno più appurate, diciamo Quando saranno concrete Mi sono fatta avanti e ho chiesto ai miei genitori Se mi potevano effettivamente ripagare l'abbonamento della palestra E sinceramente, forse guarderanno questo video Ma devo essere sincera Sorprendentemente mi hanno detto di sì Sorprendentemente perché non me lo aspettavo effettivamente Però io lo vedo come un grande investimento Sia per quella che è la mia persona Sia per quello che è il mio lavoro Per quella che è la mia persona perché Diciamo che voglio modellare il mio corpo Voglio costruirmi, voglio mettere su massa muscolare Voglio migliorare nelle performance Voglio sapere alzare di più Saper caricare di più Per questo la palestra mi sarà estremamente utile Inoltre, l'ho detto, la Lut Machine ad esempio Mi manca da morire Perché per me quel posto, la palestra, è felicità Cioè io mi ci sono trovata veramente bene Soprattutto nella mia palestra L'universo di Montemurlo Mi fa stare bene andarci Mi fa stare bene allenarmi L'ambiente Sì è vero anche a casa mi alleno bene E continuerò ad allenarmi anche a casa Perché delle volte non potrò andare O comunque sia delle volte mi tornerà più comodo Allenarmi qua a casa Però a casa manca tutto quello che è l'ambiente Le persone che vedi Tutti i macchinari Tutti i bilancieri I manubri I dischi È proprio tutto un altro ambiente Che ti mette in tutt'altro mindset E invece per quanto riguarda il mio lavoro Sicuramente andare in palestra Allenarmi Mi darà più esperienza E quindi la mia conoscenza Aumenterà sicuramente Mi metterò più alla prova Guadagnerò appunto esperienza E questo mi farà essere Una personal trainer Più completa Diciamo Più qualificata E più completa Sono veramente così contenta Ho un pochino d'ansietta Ma penso che sia quell'ansia Chiamiamola sana Se esiste l'ansia sana Ma non è proprio ansia Ansia, ansia vera Soltanto che rivedrò persone Che è da tanto che non vedo Rifrequenterò un ambiente Che è da tanto che non frequento Quindi ecco Ci saranno sicuramente dei cambiamenti E questo magari L'inaspettato Oppure il nuovo Mi può portare un pochino di Un po' di nervosismo Ecco no Un'ansia Però vabbè Non mi importa niente Io voglio tornare ad allenarmi Perché ho deciso di vloggare Praticamente Oggi sarà una giornata Un pochino più impegnativa Rispetto al solito Cioè farò un pochino più cose Rispetto al solito E tra queste cose Era andare in palestra Stamani E l'abbiamo fatto E inoltre Io penso di pomeriggio O forse stasera Raggiungerò Paul A casa della Gabriella Che è quella signora Dove noi gli guardiamo Gli animali E la casa Quindi siccome questa volta Ci stiamo tanto Tipo per sette giorni Sette o dieci giorni Veramente tanto Perché lei è andata in vacanza Dovrò farmi Un gran bel meal prep Oddio Vabbè Le cose le comprerò anche là Mangerò cose comprate Al supermercato Lì vicino Però Mi tornerebbe comodo Se mi facessi Un pochino di meal prep Però Non ne ho molta voglia Vediamo Niente Io vi lascio Ci vediamo più tardi Quando pranzerò A dopo Allora Ho deciso Di non fare Nessun meal prep Fondamentalmente Perché non mi va Però Mi preparo La roba Da portare via Quindi Mi preparerò Una borsina Con tutta la roba Da frigo Che devo appunto Portare via La metterò in frigo La borsina Con tutta la roba E niente Vi faccio vedere Che cosa mi porto dietro Per Per questi giorni Che starò via Allora Solitamente Usavo Una borsina Frigo Tipo Verde Un pochino più grande Non ce l'ho Non so che fine abbia fatto Quindi userò Questa qua rosa Che è anche rotta Tanto Mi servirà soltanto Per il viaggio Da casa mia A casa Della Gabriella Quindi Non è un grosso Problema E vi faccio vedere Che cosa mi porto Volevo portarmi Lo yogurt Greco E l'albume Però Ce n'è veramente pochino Non so se potete Notarlo Quindi Lo finirò per pranzo Perché è più comodo Così non me lo devo portare dietro Per ora però Mettiamo Lo yogurt Metterò Queste due Scatolette Di tonno Uno al naturale E uno all'olio di oliva Ora che ho guardato Un pochino A giro Mi sono resa conto Che non ho molto Da portare Soprattutto da frigo Quindi diciamo Che la borsa Per il frigo È questa E si chiude Ragazzi Ah Addio Guardate Che ho Ritrovato La borsa Di my protein Per il meal prep Che presi Un sacco Di tempo fa Metterò Tutta la roba qui Perché guardate È un sacco Capiente C'è un sacco Di spazio Sia qua Che Che qui E anche se è per il meal prep E io non farò il meal prep Ci metterò comunque Il cibo Essenziale Da portarmi Quando viaggio È il pan bauletto proteico Dell'Esserunga Perché Ti salva la vita Quindi mettiamoci questo Siccome non aveva senso Lasciarli in frigorifero Ci metterò anche Le scatolette di tonno Cacao amaro Che non può mancare Cannella Che assolutamente Non può mancare Vi direi che Qui Siamo a posto Poi Qua su in cima Ci metterò Lo yogurt greco Senza la borsina Non avrò la bilancia Mi porterò dietro Questo cup Che è Un terzo Non so se lo vedete bene E Anche Mezzo Tablespoon Ad esempio se mi voglio fare Un piatto di riso Io di solito Lo peso per Non farlo avanzare O per non mangiarne Troppo poco Con questo Mi regolo Quindi Mettiamo anche questo Allora Non è ancora Ora di pranzo Perché sono Le 11 e un quarto Però visto che Ho fatto colazione Presto Tipo All'otto Non mi metto A pranzare Però voglio Qualcosina Da Quindi mi farò Un caffè americano Che stamani Non l'ho preso Con del latte Allora Ora prendo La mia bella Tazza di caffè E vado in camera Prima di pranzo Mi metterò a lavorare Ai rinnovi Delle schede Così mi metto In pari Con il lavoro Poi mangiamo Noi ci vediamo Per pranzo Quindi tra pochino Allora Ho appena finito Di cucinarmi Il pranzo Ci ho messo Veramente 10 minuti Anche meno Perché mi sono fatta Una frittatina Triste triste A me garba Di solito Farla con le zucchine Ma non avevo Le zucchine Quindi ho optato Per l'insalata Che ne avevo poca Quindi è anche poca L'insalata L'ho condita Con un pochino d'olio E Mangerò il tutto Con queste due fette Di pane Che mi sono avanzate Quindi questo è Il pranzo Di oggi E dopo pranzo Andrò da Paul A casa della Gabriella Certo Mi sono portata Tanta roba Si viaggia leggeri C'ho due borse Una lì Con il cibo E La cartella Piena Di acqua Ok Ok Lui si Sembra che ci sia lo zoom C'è No non c'è lo zoom No Ragazzi Lo zoom Allora Madonna Sono le 6 C'è un sole ancora Noi abbiamo lavorato Finora Cioè di molto Paul Tenex Ora siamo Di particolare Quindi rimetteremo A posto casa Ecco quindi Ci vediamo direttamente Per cena Che ore sono Sono le 8 e 20 Abbiamo lavorato Finora Paul ha sistemato Tutta la casa Per me Io invece ho lavorato A dei contenuti Che voglio portare Su Instagram E ho appena finito Di preparare la cena Che è tutto bianco Ora aspetta Ve la faccio vedere meglio Cena di stasera Con bresaola Insalata Di nuovo E mangerò tutto Con il pan bauletto proteico Che mi sono portata Quindi Praticamente Cena uguale Al pranzo di oggi Tranne per La bresaola E le uova A Paul invece Ho fatto dei panini Ripieni con formaggio E Che si sta mangiando A parte E burger vegetali Noi ci vediamo Più tardi Allora ragazzi Siamo arrivati Alla fine Di questo vlog Io come vedete Sono A letto Vlog così Mi sembra Che ne ho fatti Mi sembra un'altra volta Non è che vloggo Spesso Quindi Non sono molto pratica Non so Quando prendere Fuori la telecamera E riprendere Ecco quindi Non lo so Se questo video Sarà un po' palloso Però spero Veramente di no Spero comunque Che vi faccia piacere Quando vi porto Dietro con me Nelle cose che faccio Come avete visto La mia giornata di alimentazione È stata Abbastanza monotona Soltanto stasera Mi sono risa conto Che ho mangiato Il pane Dell'essere lunga Per tutti e tre I pasti Ho mangiato Probabilmente Solo quello Ed è stato Molto monotono Questo mi ha permesso Di fare una riflessione Che volevo condividere Con voi Oggi mi sono Vissuta L'alimentazione Ed è così Che sta andando Da un periodo A questa parte Sto vivendo Veramente con totale Tranquillità Mangio un po' Quel che capita Senza troppo stress Mangio quello che mi va Quello che c'è E nelle quantità Che mi vanno Nelle quantità Che sono a disposizione E quindi Non lo so Questa cosa Mi toglie Un sacco di stress Perché va bene I macros Va bene tutto Capisco che in certe situazioni Siano comodi Servino E siano anzi Fondamentali Però anche il dover Pesare Calcolare tutto Costantemente È una fonte di stress Soprattutto se Non si ha Come obiettivo Ad esempio Una gara Quindi il fatto Di essermene allontanata E di aver preso Più fiducia Diciamo In quel che mangio Questa cosa Mi ha dato Molta più Serenità E tranquillità Veramente Sono meno stressata Ed è proprio bello Alzarsi E dire Mangio Quel che mi pare Anche oggi Io di pomeriggio Avevo fame E normalmente Magari Non avrei fatto merenda Perché non l'avevo Calcolata E tutte le calorie E i macros Le avrei raggiunti Grazie a colazione Pranzo e cena E quindi Avrei dovuto aspettare Fino alla cena Per mangiare Mentre oggi Avevo fame E mi sentivo libera Di poter mangiare Qualsiasi cosa Non lo so Tante volte si sottovaluta Questo aspetto Della vita Però È bello È veramente bello Soprattutto perché Sono stata tanti Tanti anni Dietro queste cose A pensarci troppo A pensarci troppo A quel che dovevo mangiare A quanto dovevo mangiare E quindi Ora che sento Davvero Di esserne libera Appunto È molto Molto bello Spero che questo Video Che questo vlog Non sia stato Troppo nonioso Se vi piace La tipologia Sicuramente Mi impegnerò Per fare meglio E per Vloggarvi cose Più interessanti Quindi se questo video Vi è piaciuto Ricordate di Lasciare un like Lasciate anche un commento Fatemi sapere Qual è la parte Che più avete preferito Inoltre se non l'avete ancora fatto Vi ricordo di iscrivervi Al canale E di attivare La campanellina Per ricevere le notifiche Ogni volta che pubblicherò Un nuovo video Noi ci vediamo nel prossimo Vi do un bacione Buonanotte Perché io ora vado a dormire Ciao ciao